Che ci raccogliessimo tutti in un minuto di silenzio e ricordiamo l'amico, la persona, Mario Pannullo. Innanzitutto fare partire una canzone speciale. Intanto le squadre possono cominciare a prepararsi. Un ringraziamento forte dalla famiglia Mario. Partiamo con un applauso ragazzi. Grazie. Non è semplice vivere nei ricordi, ma è bello ricordare la persona. Grazie.